Ciao a tutti, così è il meglio. Mi chiamo Benedetto Cataldi, vengo da Roma, sono un commerciante. I denti più che altro li ho trascurati, non avendo possibilità o per motivi perché sempre i tempi sono molto lunghi con i dentisti e io ero sempre trascurato, era più facile levarli che metterli o curarli e poi è arrivato al punto che cominciavano a lentarsi, si incominciavano a sanguinare gengive, ponti che non tenevano più, non vi dicendo, capsule che zoppavano e dovevo arrivare al punto che non era più funzionale. È un bel lavorone, abbiamo fatto una trasformazione, ho fatto degli impianti fissi, 8 impianti sopra e 8 impianti sotto e la struttura è eccezionale perché poi adesso ho già provato come la prima sera che ho mangiato, è una cosa eccezionale, indescrivibile. Sicuramente mi troverò bene perché poi è essenziale, la struttura è bella, è bella a vedersi e non c'è da dire niente. Chiunque ha la possibilità o il tempo, venire qui è qualcosa di eccezionale, lo consiglio a tutti come l'ho consigliato a degli amici, come qualcuno che verrà e spero che tutti guardano queste interviste, queste, cioè da vivo così e da vederci, è tutto da provare.